Speriamo che questo video in diretta oggi funzioni perché la connessione qui non è così buona. Diciamo che tra poco vediamo come vanno le cose, qua c'è il microfono, vediamo com'è l'audio, aspettiamo qualche istante ma iniziamo subito a dire che oggi sui giornali avvengono due cose diverse. Quelli che si occupano del virus, cioè il cosiddetto giornale unico del virus, che in realtà più che unico oggi è diventato solitario perché riguarda soprattutto il Corriere della Sera. Buongiorno Paola, ciao Pio, AUG non è ancora arrivato. E la seconda notizia della giornata riguarda invece il famoso bonus dei furbetti, dei parlamentari a cattoni che si sono presi 600 euro di bonus e sui quali vedremo ci sono valutazioni diverse. Siccome voi te lo sapete come la penso io sul, come si chiama, buongiorno Manuela, buongiorno Cristina, beh insomma io la penso che si dovrebbe partire dal dato. Il dato è che ieri ci sono stati 259 positivi, 259 positivi e secondo le cronache dello stesso giornale unico del virus, buongiorno Mariluccio, buongiorno Chiara, beh di questi 259 positivi la maggior parte sono giovani, sani, senza nessun effetto, se non pochissimi e lievi effetti che nascono da qualche linea di febbre e quindi uno dovrebbe dire, beh insomma 259 influenzati, come sono ieri erano 259 influenzati di cui una gran parte neanche aveva i sintomi dell'influenza, complimenti. Però ovviamente il problema è che abbiamo trovato finalmente i nuovi nemici, quelli che dobbiamo attaccare. Vedete c'è una specie di ondata di criminalizzazione. Sapete Francesca e Paola qual è l'ondata che oggi viene rivolta? Quelli che vanno a Corfu o a Malta, cioè questi milioni di italiani che vanno a Corfu e a Malta oggi sono loro i veri e quindi ci sono tutte quelle cronache, diciamo, perfette, che ci mettono una grande paura, sono andati a Corfu, sono andati a Malta e quindi dobbiamo addirittura fare il TSO, cioè il trattamento sanitario obbligatorio, dobbiamo metterli 14 giorni in quarantena, chiunque sia andato all'estero, devo dire la verità, fantastico. Noi facciamo venire i clandestini e abbiamo sempre difeso la loro potestà di venire qua se qualcuno diceva che portavano la tubercolosi, che portavano? Beh, insomma, se loro parlavano di queste cose, insomma, era uno scandalo, mentre invece per quei pochi centinaia che vanno a Corfu, oggi il governatore De Luca lo dice il mattino, dice il governatore De Luca, aspetta, ve lo dico bene, il mattino, De Luca chiude i confini, toc toc, De Luca, i confini, ancora non c'era la Campania, se no in quei confini ci potremmo rinchiudere il tuo cervello insieme a quello di alcuni altri allarmisti. Non ci sono, non ci sono ancora, non esiste la Schengen in Italia, abbiamo fatto dal 1861 l'unità d'Italia, più o meno anche la Campania mi sembra che facesse parte di quella roba là, ma comunque, e noi sulle isole a rischio, reportage, a rischio de che? Sapete quel rischio che si corre Ibiza? Si correva la pasticca, il francobollo che te prendevi, non la malattia perché oggi sono tutte chiuse, visto quello che alcuni reportage di altri giornali raccontano di Ibiza. Comunque i positivi ieri 259, 259, il casino della Campania è che ci sono 14 positivi e il 50%, cioè 7, arrivano da questi posti stranieri, 7 che sono positivi a nulla, se non a un virus che non gli sta facendo nulla, però comunque facciamo così, continuiamo a pensare che l'Italia debba rimanere con lo stato di emergenza, tra l'altro lo stato di emergenza l'abbiamo fatto in Italia, mentre gli altri paesi non hanno fatto lo stato di emergenza e questo ci potrà dire che noi siamo stati bravi a non fare il stato di emergenza. Sulla questione seconda di giornata si parla dei bonus dei 600 euro che quattro sfigati di accattoni parlamentari avrebbero preso. Intanto i giornali si dividono se sono 5 o sono 3 e lì è fantastica l'intervista al vicepresidente dell'Inps. Dovete sapere che il vicepresidente dell'Inps, che si chiama Gnecchi, è una parlamentare ex parlamentare del PD e questo è il favoloso sistema. Uno è Tridico, il Movimento 5 Stelle, che con Mimo Perisi e Arcuri è la specie triade che ci sta governando e l'altra è una ex parlamentare del PD, come sempre avviene nei carrozzoni pubblici, voi che volete che lo Stato si occupi. Noi sapete cosa vuol dire? Che lo Stato sarà occupato e si occuperà di Mediobanca, di Alitalia, delle banche eccetera e poi qualche parlamentare saprà a che lavoro trovarsi. Secondo me non è male come prospettiva, però si sta dalla parte dei parlamentari, insomma non da quella dei cittadini normali. Comunque la Gnecchi, vicepresidente dell'Inps e ex onorevole del PD, dice bonus a pioggia sono un'ingiustizia. Gli risponde, e qui io veramente, devo dirvi la verità, è stupendo quello là, Travaglio, è veramente stupendo, è quasi la perina, insomma proprio la perina no, ma è quasi, cioè Travaglio è una perina diciamo che fa il direttore del fatto e questa perina, questo Travaglio, oggi fa la lezioncina alcazzaro, come lo chiama lui e la sua banda di, come possiamo dire, di seguaci, che parlano come lui, si fidanzano con le sue donne, si fanno le foto tutti quanti con Di Maio, eh? Toc toc, foto con Di Maio in Sardegna, fantastica, un ministro degli esteri con i giornalisti del suo amichetto, tutti insieme, sono una specie di club che si tengono a vicenda, come una specie di, come possiamo dire, come una fila di ubriachi, perché se ne salta uno cadono tutti. Beh, lui continua a dire che Salvini è un cazzaro, è un po' cazzaro, lo è, tutti noi abbiamo una bella dose di minchiate che dicono e dice ogni volta che parla Salvini dice una cazzata, per esempio sul bonus di 600 euro che si sono presi i parlamentari, e fa una lezioncina, vi giuro, oggi sul fatto fa una lezioncina sull'elicopter money. Allora Travaglio, ti prego, prendi nel tuo cervello l'unica cosa che conosce, cioè il codice di procedura penale tra i due neuroni che così non combattono l'uno con l'altro, e evita di parlare di economia. Primo aspetto, siccome avete appena preso due milioni e mezzo di finanziamenti con la garanzia dello Stato, investili per esempio in quelli che fanno le correzioni delle bozze, financo dei tuoi articoli. In prima pagina, helicopter money, vuoi fare il fico? Lo scrivi senza H! A me va benissimo, io quando voi vedete i miei testi sono pieni di errori di ortografia, perché li hai detto, ma io sto facendo internet, quello fa il giornale, il sapientone, le rete di Montarelli, helicopter money, se lo scrivi tra virgolette, scrivi money invece che soldi, helicopter va con l'H e poi ci spiega, hai la grande teoria di Friedman, che è uno che piace a me, ma per favore, ma lascia, pensa per favore ai tuoi di Matteo, tuoi... Buonafede, lascia perdere Friedman, perché l'Helicopter money di... Guarda, sai, fai una cosa, non ti dico, consulta Google, vedi che cos'è l'Helicopter money di Friedman e capisci che non c'entra assolutamente nulla con quello che stanno facendo e con la spiegazione che hai fatto tu a Salvini, l'Helicopter money è una politica monetaria, questa è una politica fiscale, ma lasciamo perdere, il punto fondamentale è quando fanno i fichi, hai presente quello che fa il fico, entra in una sala, il ragazzino in discoteca e inciampa, ecco esattamente lui, Woody Allen, che prova a ballare con quella là che gli dice vai via sgorbio, questa è l'idea di quel cazzone quando inizia a parlare e prendere in giro gli altri sull'Helicopter money, perché quando uno si sente così fico, beh, non deve sbagliare almeno, fai Fonzi, Fonzi, almeno Fonzi soltanto nel bagno dice scusa, ma comunque, sui 600 euro poi c'è il complotto della destra, Belpietro, Sallusti e Storace hanno un'idea completamente diversa, e l'idea però non è del tutto sbagliata, e il pezzo di Storace è quello che mi ha reso un pochino più incline a credere che ci sia qualche cosa di marcio in questi 600 euro, marcio innanzitutto sti cinque che si sono presi 600 euro con 12.000 euro, e sono dei marcissimi, ma scrive Storace, quando uscì un brigatista rosso che prendeva i 600 euro, lo fece uscire un dirigente dell'Inps, va bene, del Lazio, Tridico, cosa fece a quel dirigente dell'Inps? Gli fece un mazzo così, lo mandò via da Roma, lo espulse dal mondo civile, perché aveva svelato un dato sensibile, anche se quello era un brigatista, non si devono dare i dati pubblici in pasto alla gente, perché sono dati Inps, ci vuole la privacy, tutte queste minchiate qua, oggi Giordano dice sulla verità, lasciate perdere la privacy, questi non hanno diritto alla privacy, tesi diciamo di un certo punto di destra, ma Storace giustamente dice, scusami, toc toc, Tridico, ma mi spieghi perché il funzionario dell'Inps che parla e svela il brigatista che prende i 600 euro viene cacciato, mentre in questo caso, quando si tratta di cinque parlamentari, siete tutti zitti e muti, la tesi la risponde e la racconta Sallusti e dice, questi qui, Casalino e Tridico, hanno fatto il colpo della vita, perché hanno spulciato i dati di tutti quelli che c'erano i 600 euro, li hanno incrociati con i mille parlamentari, hanno trovato i sei furbetti e li hanno sputtanati per evitare di parlare delle cose serie, perché dice, in questo momento si sta parlando di due cose, del bonus e del tunnel sotto all'ostetto di Messina, cioè lo stesso partito, ricorda oggi qualche giornale, che aveva le nuotate di Grillo tra Reggio Calabria e Messina per dire, non si deve fare il ponte, il ponte no, ma il tunnel sì, e la De Micheli sta raccontando quanto è compatibile tutte queste minchiate qua, beh, sullo scandalo dei 600 euro i nomi non escono e Travaglio ne fa una battaglia, come potete immaginare, epocale e questo ti fa capire come adesso stiamo facendo la battaglia epocale non sul recovery fund, non sulla disoccupazione, non sui soldi che non arrivano, non sui prestiti che non arrivano, non sui 60 miliardi che dice il sole 24 ore sono stati, sono stati accantonati dalle banche per il rischio Covid e le sofferenze che avranno. Non si parla di questo, si parla di 5 accattoni che hanno preso i 600 euro. Apro la parentesi e chiudo la parentesi, i 600 euro non solo sono arrivati a 5 accattoni del Parlamento, possono essere arrivati a chiunque in maniera sbagliata, a chiunque in maniera sbagliata. Grazie Daniela. Shanna, mea, Vincenzo, ma non mandiamo nessuno a Waff, questi col Waff sono diventati parlamentari. Terza notizia straordinaria di giornata, la signora sindaca di Roma, la Raggi, ci comunica che si candida e il tempo ci dice il titolo più bello di tutti, si salvi chi può. Il messaggero lo dedica a Mario Aiello un pezzo, ma insomma il tempo invece è furibondo, si salvi chi può perché la signora io me ne immagino con un tono ieratico dice ai suoi amici del Movimento 5 Stelle mi candido, faccio questo sacrificio, in realtà lo facciamo noi che stiamo a Roma, altra che la funivia Daniela, mi faccio questo sacrificio perché se no vengono quelli di prima. Beh, è una cosa fantastica. Nel frattempo questa riunione cui vedo oggi sul Corriere della Sera a cui lei ha detto che si accandidava erano presenti, avrebbe comunicato questa cosa a Casaleggio, a Grillo e a Di Maio. Vabbè, il capo del partito è non pervenuto, come si chiama Rocco Crimi, ma mi chiedo ma per quale motivo oggi questi abdicano alla regola aurea che era quella del terzo mandato no e dei professionisti della politica? Mi spiegate una cosa, prima i professionisti della politica facevano schifo, poi si è diventato i professionisti della politica voi e va tutto bene, straordinario. Michele Sin oggi ci parla di un'altra, no scusatemi, andiamo avanti con la politica perché sulla politica ci sono altre due cose, un'intervista della Meloni che è l'apertura del messaggero in cui dice gli interventi al sud va bene, ma che non siano temporanei e ha un suo senso questo ragionamento anche se non mi sembra un'intervista di quelle da leccarsi i baffi dal divertimento, elezioni in Toscana per la prima volta e se la fanno sotto in Toscana e lo dice Repubblica non la verità o il giornale o che ne so gli amichetti della Lega o della Ceccardi perché Nardella sindaco di Firenze dice ragazzi per la prima volta in 50 anni la Toscana è contendibile e la possiamo perdere e registra questo stato d'animo una paginata intera di Repubblica e la Meloni ve l'ho raccontato e poi c'è questo Jimmy Lai e voi direte ma chi cazzo è questo Jimmy Lai? Beh oggi ne parla a lungo il Wall Street Journal e voi direte vabbè il Wall Street Journal è facile che ne parli di Jimmy Lai ma ne parla soprattutto Michele Sin sul giornale e allora lì iniziamo a capire che succede Jimmy Lai ha due riviste una quantità non settimanale a Hong Kong appena passata una legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong noi zitti e muti ovviamente la polizia cinese può fare quello che gli pare a Hong Kong in virtù di rischi potenziali al paese da parte di potenze estere la prima cosa che fa è arresta l'editore di due riviste è un quotidiano è una rivista seguitissimi a Hong Kong che non sono filocinesi cioè sono ovviamente nell'ambito di Hong Kong critiche nei confronti del governo cinese l'arresta e vanno a fare la perquisizione nelle sede del giornale e che cosa fanno? perquisiscono tutti i cassetti dei 200 cronisti è un cronista che si oppone il poliziotto si vede in un documentario lo leggo su Wall Street Journal chi è quello là? guarda segnati bene la sua faccia perché se continua a rompere le balle portiamo in galera anche lui ecco questo è il criterio di come viene considerata la stampa a Hong Kong sotto dominazione dal primo luglio cinese dominazione legale cinese beh questo voi direte è un po' quello che avviene nei paesi non democratici io sono d'accordo con voi ci possiamo più o meno scandalizzare da questa cosa ma Michele Sin dice ma ragazzi abbiamo rotto le balle l'Europa ha rotto le balle sulla Polonia e sull'Ungheria per la mancanza di libertà insomma intanto non farebbero cose mai di questo tipo ma comunque posso aggiungere io sono Europa e non è Cina ho capito ma la Biello-Russia abbiamo rotto le balle col Presidente del Consiglio Europeo ancora non hanno finito le elezioni dicendo che era tutto sbagliato eccetera eccetera ma perché sulla Cina noi siamo così timidi perché l'Europa sulla Cina mentre l'America fa un casino pazzesco l'Europa nei confronti della Cina è così timida beh insomma fatevi una domanda e datevi una risposta pensando a Di Maio Di Stefano tutti quelli che ci governano oggi al Parlamento direi che per la giornata di oggi è abbastanza tutto vedremo domani i contagiati vedremo domani quale sarà il nuovo allarme io ve li elenco sempre per finire la nostra zuppa in pace della signora Perina e allora il primo è stato il runner quelli che correvano e che avrebbero diffuso il virus e frattempo andavamo al supermercato senza mascherina perché all'epoca non erano convinti che fosse obbligatorio la mascherina poi sono arrivati quelli che portavano il cane a spasso e quelli avrebbero contagiato il mondo perché si inventavano i finti cani poi abbiamo trovato quei poveracci che andavano a fare la spesa troppo lontani da casa e che magari non trovavano quello che dovevano comprare e mi multavamo perché non trovavano e quelli avrebbero diffuso il virus poi dopo sono arrivati ovviamente quei delinquenti dei negazionisti tra cui il sottoscritto poi sono arrivati quelli che andavano all'estero poi sono arrivati i giovani che sono andati a fare le aperitivi gli apericena e sono andati a fare la movida insomma abbiamo sempre cercato qualcuno che contagiasse la maggioranza degli italiani non ce n'è uno a proposito di Michele Sid che abbia detto ragazzi toc toc e i cinesi quelli che ci hanno portato zitti e muti va bene direi che per oggi è tutto noi ci vediamo domani con la zuppa di porro e sul sito nicolaporro.it per tutte le informazioni di giornata per chi furbetti dei 600 euro questa è la notizia della settimana ciao ciao